Buongiorno a tutti, sono Giorgio Cacciabue, lavoro alla Direzione Opere Pubbliche con Montane Foreste della Regione Piemonte, lo settore tecnico regionale di Alessandria ed Asti. Vi parlo del vincolo idrogeologico, in particolare che è una normativa che nasce da un regio decreto del 1923 e il 3267 con il quale viene sottoposto a tutela le aree territoriali che per effetto di determinati interventi, quali appunto movimenti di terra, disboscamenti, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare i regime delle acque. Il vincolo idrogeologico a cui sono sottoposti i terreni e le aree vincolate in Piemonte non precude la possibilità di intervenire sul territorio ma subordina all'intervento e all'ottenimento di una specifica autorizzazione. Le aree soggette a vincolo idrogeologico sono localizzate nel territorio di tutte le province piemontese ma in particolare nelle aree montane e collinari e possono essere sia boscate sia non boscate. La disciplina del vincolo idrogeologico che è appunto stata introdotta a livello nazionale dal regio decreto è stata poi recepita da una legge regionale che è la legge regionale 45 dell'89 che è appunto detta nove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopri idrogeologici e poi successivamente disciplinata da circolari specifiche la cui ultima è la circolare numero 3 AMB del 31-8-2018 che chiarisce le competenze e fornisce note interpretative e indicazioni procedurali in merito alle autorizzazioni che vengono rilasciati. La documentazione da legare alle stanze di autorizzazione per l'esecuzione degli interventi è stata definita appunto da una determina, la determina 368 del 2018. rilascia delle autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico e di competenza o della regione o dei comuni. La regione rilascia le autorizzazioni per interventi che interessano superfici superiori ai 5.000 m2 o volumi di scavo superiori ai 2.500 m3 e per interventi che si sviluppano su più comuni. I comuni rilasciano le autorizzazioni per gli interventi quindi di più limitata entità che interessano superfici fino ai 5.000 m2 o volumi di scavo inferiori ai 2.500 m3. Sono inoltre di competenza regionale. Alcune autorizzazioni specifiche, quelle relative alle opere sottoposte valutazione di impatto ambientale. Gli impianti di risalita fune, le piste per la pratica dello sci nonché diciamo le opere connesse, le strade di accesso e le opere accessorie e alcuni interventi specifici che sono attuati a seguito di delega di cui è l'articolo 1 della legge 382 del 75. I soggetti privati singoli associati titolari dell'autorizzazione sono inoltre tenuti al versamento di un deposito cauzionale che è pari a 2.000 euro per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o trasformazione e che è comunque non inferiore a 1.000 euro a garanzia della corretta esecuzione delle opere. Al termine degli interventi realizzati dovranno richiedere lo svincolo del deposito cauzionale. Come detto prima per ottenere per fare l'istanza dell'auto per ottenere l'autorizzazione è necessario compilare un modello di domanda ben definito che si può trovare sul sito intero della regione e si può quindi scaricare come sul sito intero della regione si possono trovare tutta la documentazione e chiarimenti relativi alle procedure relative al rilascio della stessa. Per reperire la documentazione sul vincolo idrogeologico è possibile consultare il sito regionale, è disponibile sul sistema informativo regionale forestale in accesso libero, un specifico applicativo che consente di verificare la ricadenza delle particelle catastali all'interno del vincolo idrogeologico. Inoltre è possibile consultare dei documenti cartacei presso i settori tecnici regionali o presso i comuni andando a verificare le aree perimetrate sulla cartografia legata al piano regolatore. Per quanto riguarda la competenza autorizzativa abbiamo detto che l'autorizzazione viene rilasciata dalla regione o dai comuni in base ai limiti dimensionali. L'autorizzazione di competenza regionale è rilasciata dal settore tecnico regionale competente per territorio e quindi in base all'area dove viene eseguito l'intervento o l'opera occorrerà presentare l'istanza al settore tecnico competente. L'istruttoria tecnica che viene fatta dagli uffici regionali riguarda in particolare per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici la verifica della compatibilità dell'intervento in merito alla stabilità dei versanti del banto nevoso a regime delle acque superficiali profonde. Per quanto riguarda gli aspetti forestali la verifica di compatibilità dell'intervento in merito agli aspetti vegetazionali di conservazione del bosco compresi i provvedimenti di natura biologico-ingegneristica atti a mitigare gli effetti sull'ambiente. Allora l'istruttoria tecnica forestale riguarda specificatamente la trasformazione e la modificazione d'uso dei terreni boscati, in questo caso qualora l'intervento prevede il progetto di rimboschimento ai sensi dell'articolo 9 della legge stessa oppure qualora l'intervento di trasformazione o di modificazione d'uso interessi una superficie definita bosco superiore ai 5.000 metri quadrati. Per quanto riguarda le autorizzazioni comunali le autorizzazioni rilasciate dai comuni che possono in base a determinate casistiche avvalersi se necessario del parere in materia forestale o geologica rilasciata dai settori tecnici regionali competenti. Tale facoltà è limitata a casi opportunamente motivati e esclusivamente definiti dalla circolare. In particolare il parere forestale riguarda superfici boscate superiore ai 2.000 metri quadrati e boschi che sono governati a Fuscaia. Per quanto riguarda il parere geologico la trasformazione di aree classificate dal punto di vista del dissesto pericolosità eslevata o molto elevata e perimetrate come tale negli strumenti di pianificazione urbanistica sovrardinata agli strumenti urbanistici comunali oppure negli strumenti urbanistici comunali dichiarati adeguati al PAI. In assenza di dissesto perimetrato il parere geologico non può essere richiesto. Nel caso ci si avvalga di uno dei due organi tecnici regionali il Comune in questo caso si dovrà attenere alle prescrizioni da questa rilasciata. Determinati interventi che sono previsti dalla legge all'articolo 11 non richiedono l'autorizzazione. Infatti l'articolo 11 della legge prevede che alcuni interventi se fatti in determinata maniera non richiedono appunto l'autorizzazione. A tale proposito ricordiamo che ad esempio come tipologia di interventi che non richiedono l'autorizzazione ci sono i lavori di rimboschimento, di piantagione di albere e i miglioramenti boschivi comprese le opere accessorie quale tipo titolo semplificativo alle operazioni connesse con gli interventi servicolturali, quindi la realizzazione non della viabilità forestale che è soggetta ad autorizzazione ma la realizzazione della viabilità di esbosco. Quindi sono una viabilità temporanea costituita da pisti di esbosco che in questo caso se fatti secondo quanto è previsto dal regolamento forestale non sono da autorizzarsi. Ricordiamo che non sono soggetti a procedimento autorizzativo anche gli interventi previste e le opere previste dall'articolo 2 della legge 54 del 75 e gli interventi che riguardano in particolare i corsi d'acqua dove vige che sono soggetti al reggio decreto 523 del 1904. Sia per le autorizzazioni di competenza comunale che per quelli di competenza regionale l'articolo 9 della legge prevede l'obbligo per i titolari dell'autorizzazione di provvedere al rimoschimento dei terreni in propria disponibilità o comunque con atto di assenso anche di proprietà di altri per una superficie pari dieci volte a quella modificata trasformata quando questa si è boscata o per un'uguale superficie negli altri casi con un minimo di millimetri quadrati. Per effetto dell'entrata in vigore della deliberazione di giunta del 2017 numero 23 46 37 la compensazione che è stata fatta in attuazione all'articolo 19 della legge regionale 4 2009 assolve anche le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 45 e comprende quindi gli oneri dovuti a tale titolo. Per gli interventi su superfici non boscate, quindi esclusi i casi di esenzione previsti dall'articolo 9, occorrerà comunque invece versare, presentare il progetto di rimoschimento o se no versare il corrispettivo di bagamento in denaro. Ricordiamo ancora che ci sono dei casi specifici in cui c'è una deroga all'obbligo di rimoschimento e il versamento del corrispettivo che sono gli interventi finalizzati all'esclusiva valorizzazione agrosilvopastorale oppure gli operi costituenti opere o lavori pubblici o di interesse pubblico e gli interventi costituenti mera ristrutturazione e manutenzione di opere esistenti, nonché gli interventi relativi alle attività estrattive di cava. Nel procedimento amministrativo per la rilascio dell'autorizzazione della legge regionale 45 ha un termine di 60 giorni dalla data del ricevimento. Il termine di qui sopra, che abbiamo detto, può essere sospeso una volta sola per un periodo non superiore ai 30 giorni quando siano necessarie ulteriori integrazioni e chiarimenti alla documentazione presentata. I termini per la conclusione dell'intervento sono definiti dal provvedimento autorizzativo stesso, ma comunque non sono superiori di norma ai 5 anni nel caso di intervento in zone boscate e 3 anni nel caso di intervento in zone non boscate. Ricordiamo ancora che fra gli interventi particolari, nel caso appunto di attività riguardanti cave e torbiere, l'autorizzazione all'attività estrattiva rilasciata in base all'articolo 10 della legge regionale 23 del 2016, costituisce anche autorizzazione ai sensi della legge regionale 45, previa acquisizione nel rispetto dei predi espretti dalle organi tecnici competenti. Ricordiamo ancora qualcosa relativamente alle vigilanze e alle sanzioni e in particolare la vigilanza è svolta dagli organi previsti dalla legge e quindi nel caso del vincolo idrogeologico le funzioni amministrative sono svolte per quanto riguarda le autorizzazioni di competenza del comune, l'autorità di vigilanza e lo stesso di accertamento delle sanzioni resta il comune, mentre per quanto riguarda le autorizzazioni rilasciate dalla regione la competenza relativamente alla vigilanza spetta ai carabinieri forestali mentre l'organo relativo alla regolazione delle sanzioni e la regione stessa. Nel caso di lavori eseguiti in violazione di legge l'organo competente che sarà il comune o la regione, quindi se nel caso di lavori eseguiti in assenza di autorizzazione o in deformità della stessa l'organo competente dovrà chiaramente imporre una sospensione da lavori e imporre anche o un eventuale ripristino, una rimessa in pristino dello stato dei luoghi o dovrà chiedere al soggetto individuato la presentazione di un'istanza per lavori realizzati in assenza di autorizzazione per valutarne un'eventuale compatibilità successiva. Concludo dicendo che tutti gli atti relativi e la documentazione di approfondimento potete reperire al suo sito della regione Piemonte andando a ricercare appunto il vincolo idrogeologico come argomento e potendone consultare anche tutti gli atti. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a tutti.